Il mio pasto di oggi, lasagne al forno, cioè a riscaldarle. Qui c'è la carne che sto bollendo e ci ho messo anche le patate. Tutto insieme, qui ho fatto le uova sode, frangola e una banana, e poi le so delle cose. Per meggiore si mangia, meggiore un'ora, quello che sia. Buona, apposito! E dove sono le lasagne? Ecco lì! Yopla! Bye bye! Tutto pronto! Buon apposito! La carne è ancora dura, aspetta per stasera o domani. Ok, bye bye! Il video non deve mancare! Ciao ciao!